Salve amici del Centrumetitaliano, se il weekend dell'8 dicembre si conferma discreto, la prossima settimana potrebbe vedere il transito di un rapido fronte freddo sulla nostra penisola. Principali modelli allineati tra lunedì e martedì quando una vasta circolazione depressionaria posizionata sulla Scandinavia dovrebbe pilotare un fronte freddo verso l'Italia con direttrice nord a ovest sud est. Atteso il calo delle temperature su valori poco al di sotto delle medie del periodo. Rapido passaggio instabile con precipitazioni che al momento dovrebbero interessare soprattutto il medio versante adriatico e sud con neve sulle montagne. Incertezza comunque elevata perché l'anticiclone delle azzorre potrebbe premere da ovest spostando tutto verso i Balcani. Seguite allora tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centrometro Italiano.